Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Anche il weekend è iniziato con una splendida giornata di sole su tutta l'Emilia Romagna, determinata dall'alta pressione che ormai ci protegge dalla giornata di lunedì e lo farà almeno per i prossimi due o tre giorni. Infatti anche la giornata di domenica vedrà un inizio soleggiato su tutta l'Emilia Romagna con cieli per lo più sereni al mattino su tutto il nostro territorio, poi nel pomeriggio qualche breve annuvolamento interesserà soprattutto il crinale dell'Appennino Emiliano ma senza alcuna precipitazione. Infatti non sono previste né piogge né temporali almeno fino alla giornata di martedì. Le temperature aumenteranno ulteriormente, al mattino avremo valori compresi tra 16 e 21 gradi, mentre nel pomeriggio i valori saranno compresi tra 29 e 34 gradi con punte fino a 35 e 36 gradi sulle pianure centrali dell'Emilia. La ventilazione sarà debole, il mare quasi calma. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.